Ti prego non dirmi che tu sei granni, questa qua è la casa dei granni e dobbiamo fare nascondino con tu che mi segui da nonnetta bruttissima che mi vuole picchiare Esatto Steph, è la mia rivincita su Baldi Perché preferisco granni, mi piace molto di più la casa dei granni, quindi questa Steph è la mia rivincita Ma cioè è una riproduzione perfetta Eh sì, ovviamente Altrimenti che casa dei granni sarebbe Steph, scusa, sarebbe una cosa farlocca Anche i passaggi segreti è tutto E in più Steph, non solo ci sono i passaggi segreti nasconditi della casa normale di granni Ma abbiamo anche i nascondigli segreti, aggiunti dall'assistente segreto numero 2 Oh, come lo vogliamo chiamare? Che ancora non gli abbiamo dato un nome, poverino, ma ti sembra che lo dobbiamo cambiare numero 2? Lo so, lo so, piano piano daremo le informazioni, per adesso è soltanto segreto Poi avrà un nome, poi un nome più dettagliato e poi sempre più informazioni Ti stai già nascondendo per caso? Eh boh, sì, fai che Allora, io sono andata nella stanza dove si inizia, dove inizia il personaggio su granni, stai la cameretta classica Aspetto lì, dimmi quando sei pronto Ok, allora Ma io se ti vedo ti posso sparare, no? Perché è un fucile, Steph Sì, sì Ricarichiamo? No, in realtà Come no? Ti posso sparare o ti devo solo trovare? Sì, puoi andare, Fere Ok È pieno di passaggi segreti, non me lo aspettavo così tanti, eh Ce ne sono davvero, davvero, davvero tanti Bisogna anche impararli perché non abbiamo idea di dove sono Ovviamente Però ne ho trovato uno interessante e ho detto, oh, va bene, ok, ok Quindi il primo che hai trovato ti ci sei messo Quanto ti do di time? Guarda, sto partendo di turno in ritardo perché tanto Fere, fere, fere Tu mi vuoi sfidare a nascondino? Davvero? Ancora non ho imparato nel 2018, cara mia Eh, quanto metto? Tre minuti, dai No, di più, la casa è enorme che sei pazzo 8 minuti Cosa? Sì 8 Sì, 8 Il video è solo tu che cerchi? Io fermo qua e te che cerchi perché sei in grado Ma allora i passaggi segreti, secondo te, saranno sempre di quelli che ci passi attraverso? Devi cercare anche bottoni? No, secondo me non ci ha messo bottoni, dai Sarebbe too much Eh, appunto Già siamo scarsi così Sì, già Fere non li trovava nella scuola di Valdi Ok Ai, 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 ai Non rompere Eh, non rompo, non rompo Non rompo, però qua il tempo passa, cara Comunque dai, facciamo 4 minuti Ok Proprio per essere gentili Però, Fere, ti dico Mi sono persa! Non è vero, ecco la casa Dai, la casa di grandi la conosci a memoria Quando mai? Dai Secondo te c'è un qualcosa che io possa conoscere a memoria Dovresti, cavolo Che includa tante stanze, passaggi segreti, sotterranei e semi-interrati, Steph Cioè, questa cosa non potrà mai succedere nel mondo Va bene Te lo vedi, scusami, eh Cioè, con tutti i posti Io stavo andando Ho guardato tutto il semi-interrato, Steph Sono scesa sotto Mi sono avvicinata a tutti i muri A cercare i passaggi segreti E tu te ne vai In piscina, coricato, sdraiato Ha funzionato? No, perché ti ho ucciso Hai perso un sacco di tempo Allora Maledetto, guarda Sei un maledetto e basta Ok Allora, io ho deciso Ora ci sono due nonna Che come tutti i nascondini Mi tengo la mia baby Fer C'era il fucile? Eh, sì, cara, grazie Allora, io vado nella stanzina Di partenza del gioco Mi chiedo qua Fer, muoviti e nasconderti Mentre ripreparo già il timer Così direi che ci possiamo di nuovo essere Sì, ho creato il part Che sto a fare? Pristina Ok Fer Le lascerò altri 20 secondi Ok, ho quasi fatto Poiché lei abbia fatto Che non abbia fatto Io partirò Aspetta, 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 aspetta Ci sono E non sarò Un bravo ragazzo Perché io Bello questo Penso di aver fatto Vado? Sono nascosta Non so se sono nascosta Posso andare o non vado? Sì Vado? Ah, via Ok 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 Questo lo iniziamo a ricaricare Perché Bisogna Sono nascosta Incutere, timore Sai com'è? Non riesco a vedere bene la visuale Quindi sai com'è? È sempre il dubbio che magari sbuchi fuori da qualche posto Quindi È un po' complicato Però penso di esserci Mi avevo trovato No Dove stai sparando? Che stai a fare? Ti faccio paura Cioè sei pazzo? Esatto Ok Allora Ok E basta sparare in giro, Steph Confondo i tasti Ok, volevo aprire la porta e ho sparato E non devi tenere il fucile quando devi aprire le porte Eh, lo so Però ti volevo mettere anzi Smettila Ok Io non ho idea di dove sono i passaggi segreti Fare un pochettino ho avuto un primo round per scoprirlo No, ma Steph Cioè Corri, guardi in oro Solo becchi, ti nascondi Altrimenti no Sono tanti Sono impossibili da ricordare tutti E comunque anche la casa di per sé ha tanti nascondigli Quindi puoi sfruttare anche quelli della casa Non capisco Porca miseria Dov'è? Dov'è questa qua? Dove cavolo è andata? Allora ha controllato In un nascondiglio Che simpatica Che simpatica Dicevo, ha controllato già abbastanza Ok Però la casa è enorme È davvero enorme la casa Sì, è davvero, davvero, davvero enorme Purtroppo è davvero grande Quello è davvero bello Non so di cosa stai parlando E non li voglio neanche vedere Perché sennò poi mi condiziona per i prossimi round Quindi non voglio vedere nulla Rimango dritta nel mio nascondiglio Convinta della mia idea E basta Forse è meglio questo Mio Dio Sto trovando roba brutta Ma non ti devi cercare i nascondigli E poi ho messo il timer Quanto sono? Tre minuti? Quattro minuti? Quattro minuti e non siamo neanche due Quindi certo Ok, c'è tempo C'è tempo Nel mentre mi cerco di nascondigli Ok Ma dove cavolo è però? Nascosta Eh, l'ho capito, l'hai già detto Non fa più ridere ormai Nascosta bene Nascosta bene, va bene Se sei nascosta bene Steph Ti concia per bene Eh? Se lo dici tu L'hai apprezzato? Sì, se lo dici tu Lo dico io, lo dico io Lo dico assolutamente io Dove sei finito poi? Ma che ne so Ma che ne so Sto cercando di arrivare nella cantina Perché secondo me tu sei nella cantina Ok Però non riesco a trovare il modo di arrivarci C'è anche il cortile Il cortile di Di granice Già controllato, cara È inutile che cerchi di mandarmi In altri posti C'è un pozzo di roba Steph sotto E in altri luoghi Non è solo la cantina Sì Sì, sì Hai ragione, hai ragione Vai a controllarli Sì, sì No, no Io sono già ben nascosta Non ho bisogno di andare a controllare un bel niente Dai, ma finisce sto tempo Quanto è passato? 2,40 Eh dai, solo E ne butti tu un sacco di minuti Sì, c'ho il timer Non vuoi controllare? No Allora, qui Tu sei qui Tu sei assolutamente qui da qualche parte Tutta la vita So che mi stai anche vedendo Lo so Sì, ti vedo Ah, lo so Esattamente, certo Proprio quello che vedo Vedo uno step tra vestito da grani Certo Fa paura, vero? Sì, è bruttissima Molto, Steph Molto, molto, molto È inutile che cerchi di far finta È solo questione di tempo, cara È solo questione di tempo Ovviamente Oh, cavolo Non mi sembri così tanto più sicura di te Se poi bisbigli altre cose Beh, mancano 40 secondi Questo può essere un problema No, ma non ci credo Non è neanche qua Te l'ho detto che la casa di grani È molto meglio della scuola di Baldi, Steph Porca miseria Che ti spari Così in silenzio Che mi fai scendere un colpo Maledetto Perché continuo a pensare che sei in questa stanza Io voglio vedere il timer, ma non lo vedo È 3.45 Quasi finito, Steph Sì Bye bye Non sono in una stanza, Steph Non perdere tempo a entrare nelle porte È finita Mi sei passato anche a fianco, ovviamente, più di una volta, Steph Vieni qua Dov'è? Appena scendi dalla stanza principale, ok? Scendi le scale e vai nell'atrio Ok Il muro qua Qui in mezzo Basta Ok Ma no, va bene, va bene Ok Cioè, era proprio banalissimo Ho fatto anche finta di cercare per un sacco un nascondiglio Vabbè Il primo che ho trovato mi ci sono messa Vattene via Aspetta, mi devo trasformare in grani Devo andare sopra Devo preparare il mio fucile, Steph Perché questa volta ti potrò risparare di nuovo Siamo 1-0 per ferro Ok A posto È molto triste, Steph Sono nascosto Dai, davvero? Sì Sicuro che non ti serve altro tempo? No, no Vado Sì, sì Sto ricaricando, aspetta Scusa un po' Ok Avvio Ah, vendetta 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 Tutti insieme Vendetta Vendetta Questo non lo trovi Questo Allora, non puoi essere andato troppo lontano Perché ti sei nascosto subito Va bene, va bene, va bene Ma perché il mio personaggio continua a saltare da solo? L'ho tolto l'autogump Smetti di rimetterlo Stiglietto Ok Comunque era figata sta mappa Bellissimo Mi piace proprio un sacco Mi piace proprio un sacco Però ti vedo un po' in difficoltà Ma se sto solo cercando, che vuoi? Eh no, mi sembra che c'è un po' di panico nei tuoi occhi Ma niente per idea Vedete, guardate bene negli occhi fari in questo momento tramite la webcam Qui c'è qualcosa Vedete la sua confusione Sì, Steph La sua preoccupazione Ma Steph è ancora in questa mappa? O è talmente brava a nascondersi che è finito in un'altra dimensione? Lo potrò trovare Ma neanche per idea Allora Ti ripeto, non puoi essere troppo lontano E tu eri tutto felice che avevi trovato un sacco di nascondigli belli Qui vicino Ok, va bene Va bene Sto esplorando i muri, non mi rompo Che vuoi? Se fossi in un muro ti darei anche ragione Però Steph ha sempre tanta fantasia Va nella cantina, signori Dopo un minuto e venti Opta per la cantina E ormai la mappa si inizia a conoscere Ormai iniziamo a conoscerla bene Ma è secondo me la grandezza giusta Cioè potessimo diventare piccolini Sarebbe troppo grande No, sarebbe eccessivo Però non potendo diventare piccolini Con un po' di passaggi segreti Mi sembra ben bilanciata Non sai quante volte ho fatto quel passaggio lì Pensando che fossi in quel punto, cara Vero Sì Invece è un giro tondo Lo so, lo so Però è bello Comunque è ancora ferma nella cantina E siamo a 1,45 Quindi manca molto poco Ok Ok Ok, è bello Ai 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 Bello sta nascondiglia Ai 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 Due minuti adesso Belli nascondiglie Ma Ci sono nascondigli un po' strani Sì, ci sono quelli Perché lì ti corichi E diventi invisibile Ah, ok Le devo spiegare io Ho capito Capito Allora Che parte della casa non ho visto No, l'hai vista tutta Quello è il tuo problema No, non l'ho vista tutta L'hai vista tutta No, per niente Il pieno di sopra non l'ho fatto nulla No, è già fatto Ma non è vero Non l'ho visitato niente Ma l'hai già controllato anche lì Tutto qua non l'ho controllato invece Non dire bugie Non hai più idea di dove andare Ma non è vero Eh, ho Hai fatto tutto Non l'ho controllato metà della casa Che vuoi Ma quando vai? Due minuti e trenta Che imbecille Guarda È proprio l'imbecille degli imbecilli Tu, io no Oh, tu cosa? Tu sei imbecille No, tu sei imbecille Tu sei imbecille Ok Scendo di nuovo di sotto Questa è un'altra parte Non è la stessa cantina Quindi non rompere Ok No, non mi confondi E là vedi che la conosce a memoria La mappa di grandi È più facile ricordarsela su Minecraft Quello Non è vero È uguale No, non è vero È più facile È solo che non c'è l'ansia Nella nonnina Non è vero Ma c'è solo l'ansia Di c'è nascosto Sei bucciardo Sei falso E tre minuti e cinque Brutto, brutto, brutto Per fare È tosta A sto punto hai guardato tutto Sto morendo di fame Non ho guardato tutto E cosa ti manca? Ho fatto una stanza Mi manca l'altra stanza Del secondo piano Ahà E mi mancano altre parti Ok Tipo qua Io non l'ho visto Come si esce da qui Come si riva il piano di sopra Ecco qua Tipo questa stanza Non l'ho fatta Ah, è quella lì Allora da questa parte Questa parte io non sono andata Di nuovo nel bagno Sì Due volte di fila Nascosto Che mi è successo? È caduto giù Dai, dove sei? Cioè, raga Di nuovo nel bagno Nella vasca Controllando che Non sono così Prova a nascondermi Ok, qui si cade Si va in cucina 3.55 È finita Vai, dimmi dove eri Avanza Dove? Lì? Qui No, dall'altra Qui? Sì Vado Destra Vado Cavolo Oh, ci sono passata Anche qui sopra Perché non mi ha fatto vedere Che c'era? Lo so Perché c'era il tuo corpo Che bloccava allora il passaggio Può essere, però Ti vedevano tutti Quindi sappiamo benissimo Quanto sei passata lì di fronte Cavolo, perché? Pensavo non ce ne fossero Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Te lo meriti No Sì, te lo meritavi E allora anche tu Ti ho mancato davvero Con il fucile a pompa A mezzo metro di distanza Ma non ti meriti niente Comunque questo era il nascondiglio Che avrei fatto in un altro turno Ah Bello, eh Bello Perché tu infatti Pensi che qui non ci sia nessuno Invece non mi ero neanche accorta Che c'era questa Bello Questa Questa parete invisibile Era indecisa tra quello E quest'altro Però questo aveva l'unico rischio Che magari tu a caso Facevi così E scoprivi Certo Capito? E invece con l'attivo Ho fatto No, non si aspetta Che ci sia un passaggio Proprio lì sopra nel muro Eccetera, eccetera E quindi Distrutta Ma non è vero Io ho fatto un round in meno Quindi non rompere Una, una Vai Fede Se ti nascondessi Ti troverei Allora mai conosco tutto a memoria Mi dispiace E ho pensato di fare anche quello Di trollarti in questo modo Bellissimo Che era carino Però secondo me Senti troppo il rumore Lo capisci Eh sì Perché sei qua Esatto Cioè dovresti stare al centro della casa E fare questo Oppure io che non ho le cuffie Esatto In ogni caso Ci fermiamo così Per questo nascondino Nella casa di granni Qua sotto come sempre compagno in altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao